ciao ragazzi allora fra sette giorni oggi ovvero il 13 di novembre ci troveremo a novara per fare la prima cena con ezio maria romano cinofilia per persone intelligenti intanto voglio colgo l'occasione per dirvi se siete vicino a novara e mi volete incontrare volete stare con me tre ore tre ore per parlare di cani prendervi un aperitivo e mangiare una cena come si deve per sole per soli 97 euro guardate che a novara io non ci torno poi più perché inizio adesso diciamo una specie di tournée dove la mia intenzione è quella di diffondere un po la mia cinofilia e perché ho deciso di fare queste cene deciso di fare queste cene perché le scelte che fanno le persone proprio su quale cane decidere di adottare su come crescerlo su come gestirlo su come organizzarsi attrezzarsi eccetera indipendentemente che abbiano una casa con giardino che abbiano diciamo un cane che lo tengono in casa eccetera oggi vengono fatte le persone le fanno per sentito a dire mi piace un cane decido di scegliere quella razza e parto e questa è un po la fortuna di tutti quelli che lavorano in questo settore perché se io senza alcuna base di cinofilia o direi addirittura senza alcuna base di zoologia io parto e inizio a voler adottare uno più cani senza avere questi pilastri che reggono sia l'esistenza del cane ma sia la nostra esistenza col cane vabbè non possono far altro che portare spesso a scelte sbagliate che poi come vi ho già detto altre volte siamo in una situazione dove sti cani tanto amati siamo arrivati a 70 mila all'anno che reggrediscono dei familiari i canini ce li abbiamo sempre più straripanti di cani e tutte queste cose che ormai sapete già allora ho scelto questa formula della cena perché in questa delle corse che si fanno perché praticamente in queste cene io vorrò oltre a rispondere a tutte le domande che mi faranno i partecipanti perché ogni cinofilo ha quelle tre quattro domande che magari ha già fatto ad altri ma non è rimasto abbastanza convinto delle risposte ma gli sembra che senza queste risposte il rapporto che ha col proprio cane o quei propri cani sia un po zoppo bene io in queste cene oltre rispondere a tutte queste domande il mio tentativo che farò in italia partendo proprio da a novara infatti comunque sarà sarà un successo perché novara sarà poi sempre storicamente la prima cena come cio maria romano sinofilia per persone intelligenti che io avrò fatto e poi prima di natale ho messo altre cinque appuntamenti ma in piemonte non credo di venirci per un po ma specialmente a novara non ci andrò più per il fatto che cercherò poi di coprire un po tutte le zone d'italia permettere come vi dicevo prima queste basi secondo me è fondamentale che le persone sappiano come si costruiscono i pilastri come si fa per una casa nel rapporto col proprio cane che poi le persone possano dare al proprio cane l'interpretazione che vogliono possono dargli l'utilità che vogliono anche il cane la compagnia è un cane da utilità per tutte quelle persone che dicono no io lo amo e basta e non lo ami e basta perché la sua presenza per te di grande utilità quindi a tutti i cani noi instauriamo un rapporto e dai quale rapporto ne vogliamo ricavare qualcosa va bene a beneficio del cane ma il più delle volte specialmente a nostro beneficio ecco questo evento si può dire io farò per la prima volta a novara che sarà il primo di una serie avrà proprio questo obiettivo mettere le basi mandare le persone a casa con le risposte di tutte le domande che si sono sempre fatte sui cani e con delle basi precise dove indipendentemente che il cane sarà un cane la compagnia da greggio ecco che sono le mie la comparsa delle mie due pecorelle che sia un cane e se voi gli facciate fare difesa personale che gli facciate fare qualsiasi cosa sportiva legata a un cane secondo me ci sono delle basi che un proprietario di cani non può ignorare perché se ignora queste basi come vi ho detto prima il rapporto col cane ma anche nello stesso tempo proprio l'ottimizzazione dei risultati che si vogliono ottenere dal cane o nel rapporto fra proprietario e cane saranno sempre zotti saranno solo una piccola parte di tutto ciò che si sarebbe potuto ottenere quindi vi faccio questo video per dire non è che mangeremo e basta ci saranno queste tre ore che al di là che io risponderò a tutte le domande ci sarà la possibilità di capire una volta per tutte quali sono le basi ma sono le basi che mi sono inventato io non sono le basi che hanno un fine particolare no no sono proprio cos'è il cane in qualità di animale che siamo noi in qualità di essere umani e come possiamo in modo il più compatibile possibile coesistere e convivere in modo da averne i maggiori benefici noi ma anche i maggiori benefici per i nostri cani ok quindi vi faccio ancora adesso questo video per invitarvi perché se voi siete in quella zona siete come a venire a novara ecco non mancate questa occasione perché io la prossima settimana sarò quella successiva sarò poi a in lombardia e quella successiva ancora sarò poi in liguria poi sarò poi in veneto poi in emilia romagna o in toscana ma in quella zona per un po non vero va bene per lo meno in quella provincia mai più non escludo che sarò poi nuovamente in piemonte vi ringrazio per avermi ascoltato anche oggi e vi auguro a tutti buona giornata a presto